Si risparmierà qualcosa, non sappiamo quanto, sappiamo però che non sarà tanto. Secondo, la composizione del Senato è assolutamente sbagliata, cioè il Senato è fatto da 74 senatori nominati di nuovo, non sappiamo come, dai consigli regionali, che ricorda tutti, sono stati fino a tempi recenti, forse ancora sono, una classe politica screditata e quindi avremo gli screditati che mandano i nominati a fare i senatori, i quali comunque avranno due problemi. Il primo è che dovranno fare due lavori perché saranno consigli regionali e anche senatori e quindi uno dei due lavori sarà difficile da compiere in maniera efficace. Secondo, molto spesso dovranno avere dei rimborsi perché andare e rimanere a Roma, immaginiamo solo i senatori della Sardegna e del Piemonte vengono da lontano, devono essere in qualche modo remunerati. Dopodiché ci sono 21 sindaci, anche qui non sappiamo bene come verranno scelti e incredibilmente ci sono 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica che in una Camera delle Autonomie non c'entrano assolutamente nulla. Sappiamo però, e voglio sottolineare questo punto specificamente, che certo dovranno rappresentare le autonomie ma che incredibilmente è il luogo dove verrà elaborata la politica europea dell'Italia. Cioè consiglieri regionali, nominati da altri consiglieri regionali, avranno questo grande potere di fare la politica europea dell'Italia argomento sul quale naturalmente non avranno certamente fatto campagna elettorale quando sono stati eletti in consiglio regionale e sul quale è lecito, molto lecito, dubitare delle loro competenze. Di nuovo, una delle regole fondamentali dovrebbe essere che quando si fanno le riforme si semplificano le istituzioni. Invece qui c'è lo spazio enorme per conflitti, conflitti fra i consigli regionali e i senatori che avranno nominato. Conflitti fra il Senato e la Camera, quando si deciderà quali leggi devono essere esaminate, possono essere esaminate anche dal Senato. Conflitto fra il Senato e probabilmente il Presidente della Repubblica qualche volta e forse tutto questo finirà, anzi non forse, quasi sicuramente finirà alla Corte Costituzionale. Il giudizio è negativo da due punti di vista. Perché le riforme sono fatte male tecnicamente, quindi questo deve essere detto in maniera alta e forte. E secondo perché non riescono a conseguire l'obiettivo. Qual era l'obiettivo? Di rendere il governo più forte, più stabile, più efficace. E allora certamente non sarà la riforma del bicameralismo che accambia questo. Bisognava intervenire effettivamente sui poteri del governo. E invece si interviene in maniera surrettizia attraverso la legge elettorale, che in qualche modo eleggerà il Capo del Governo e incidentalmente toglierà il Presidente della Repubblica il potere di nomina. Il Presidente della Repubblica si troverà davanti un Capo del Partito che ha vinto, gonfiato di seggi, il quale dice mi devi nominare il Presidente del Consiglio. Il Senato, così come viene riformato, non risolve nessuno dei problemi italiani. Il Presidente della Repubblica